Applausi Dalla Triglia, non conoscevo il paese della Triglia, mi perdoni Bene, allora, signore Dvige da Aprilia, fai Aprilia? Ecco, questo è Aprilia E' meraviglioso, è in grado di fare qualsiasi cosa il nostro Sonic Guarda, Aprilia, invece, Chusi, Aprilia Chusi, bravo, Chusi, Chianciano, Aprilia, bravo Allora, signora, otto animali, otto animali già individuati Due animali individuati, pronto? Pronto? Buongiorno, signora, benvenuto Buongiorno Come si chiama? Barbara Signora Barbara, allora, sono stati individuati già due animali Faccia prima quei due e poi andiamo a cercare di scoprire gli altri Sì, questo è un cane parente di quel tentativo di cavallo precedente Un gatto che cigola più che miagola Poi, andiamo a scoprire Un mostro questo Una mucca Una mucca? Una mucca? Sì, io ho capito una mucca Cioè, con tutta la buona volontà ho capito Una mucca, vediamo se abbiamo una mucca Abbiamo la mucca, sì, signora Bene, un altro animale individuato Forza, forza, che il tempo passa Questa dovrebbe essere una gallina Spero, abbiamo la gallina? Abbiamo anche la gallina, signora, ci va di lusso Cane, gatto, gallina, cavallo Forza Le perde il rubinetto a casa Cosa? Me lo fa ancora? No! Eh, sì Venga qua Che è successo? Che è successo? Che è? Eh, sembra Fontanella a Borghese Che sta succedendo? Ok, è solo un gioco Eh, dai No, vabbè Adesso Non sto cotto La neurodeliri, per favore Allora, chi è al telefono? Pronto? Pronto? Pronto Salve signora Come si chiama? Rosetta Signora Rosetta La signora precedente Con quel che ha combinato Mi ha messo una ragazza In una situazione drammatica Eccola là Vorrei che lei facesse le cose per bene Se la sente, signora Rosetta? Sì Non tanto Coraggio signora Da dove chiama? Da Caltagirone Da Caltagirone Allora signora Gli animali che sono stati già individuati sono Allora Che ti dici? Poi Scusi Poi, prego signora Eh? Chi? La scimmia La scimmia, bene Poi? Eh, la mucca La mucca Eh? La? La mucca Ma perché mi continuate a fare questa mucca che non c'è? Mannaggia signora, mi ha fatto così bene la scimmia Vieni qua O ti calmi? Ma ha detto Pamela che stavi anche per bene Allora Signora, purtroppo la mucca non c'è C'è l'elefante ad esempio Signora, Rosetta Come fa l'elefante? E questo è più un gesto di non consenso nei miei confronti Non è carino carino questo elefante Comunque signora Rosetta Oggi è stata una giornata un po' sinistra sotto questo aspetto Vi ricordo che gli animali individuati sono stati finora il gallo E mi è Mi ha cappottato Sonic Sembri Scalpiti Tirati su Guardate Il videogioco più anziano del mondo Non ce la fa ad alzarsi Allora Non fare più salti evolutivi Stai calmo? Allora Vi dicevo che compiono questo salto evolutivo In quanto Che? Stai calmo? Eh? Ok E' finito tutto Se cadevi a pancia sotto Potevamo fare l'altalena Grazie